Musica Ciao, buonasera a tutti, noi siamo gli Amacorà Buonasera, ciao, ciao Questa sera siamo stati qui a Soveria Mannelli Precisamente per la festa della Madonna degli Abbandonati Qui a San Tommaso E' stata una serata fenomenale Il pubblico caldissimo Anche se faceva un pochino di freddo Ma l'abbiamo riscaldato Abbiamo trovato il modo di risolvere Vi invitiamo a prendere parte I nostri concerti in generale Dove è riuscito a venire dappertutto in tutta la Calabria Che possono trovare le informazioni Sulla nostra pagina Facebook Su tutti gli altri canali dedicati Sulla pagina Calabria Sona Potete trovare qualsiasi informazione Precisamente nella provincia di Catanzaro Oltre a Soveria ci troverete anche a Squillace Il 12 agosto E qualche giorno più tardi Precisamente a San Sostene 16 agosto Quindi nient'altro Venite Noi siamo gli Amacorà Facciamo parte anche del circuito Calabria Sona Quindi è possibile che all'interno di qualche serata nostra Possiate trovare anche qualche altro gruppo Che vi arricchirà sicuramente Vi farà ballare Ci divertiremo Fidatevi Nei nostri concerti ci si diverte Quindi Suoneremo un pochino in giro per la Calabria Nelle varie province Tutte le informazioni Come abbiamo detto Sui social Sui social Facebook Youtube Su Youtube è uscito il nostro ultimo singolo Dal titolo Pettia Quindi andatelo a cercare Spotify Siamo dappertutto Quindi ragazzi Cercate Digitate Amacorà E noi siamo con voi Ciao Ciao Buonasera Ciao